I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, con il prezioso supporto dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica o Plontina, specializzata nel contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, hanno effettuato un blitz in una cantina del Corso Garibaldi all'altezza del Civico 106. I militari hanno scoperto degli scavi clandestini, salvando di fatto un'opera d'arte di inestimabile valore. Durante le operazioni, effettuate anche con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, i carabinieri hanno rimenuto tre tunnel, parzialmente franati ma utilizzabili, tutti convergenti in direzione del vicino sito archeologico di Villa Poppea, in particolare verso il grande atrio con decorazioni ad affrisco nel sito di Oplontis. L'area e tutti i materiali, attrezzi atti allo scavo, areatori, materiali di puntellamento, recipienti con all'interno lapilli provenienti dagli scavi clandestini, sono stati sequestrati. Denunciato per il reato di opere illicite, articolo 169 dei beni culturali, il proprietario del locale, un 53enne falegname incensurato del posto.